Fammi un discorso, molto serio, il Presidente ha amministrato bene le sue forze, alla grande, il trafuoco scatterà. Distacchi, distacchi Presidente. Quattro compagni di fuga, il signor Guonaldo, il signor Sverbosa, il signor Milani, i migliori aggregari, i distacchi stiamo parlando di un minimo di una ventina di minuti e faremo partire il cronometro. Marco, Marco, vieni qua che non ti vedo. Marco, vieni che non ti vedo. Zitti. Marco, dimmi qualcosa. Vieni, 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 vieni. Ciao, vieni, vieni.